Il Partito Democratico sono accolte tutte le riformulazioni e non si chiede il voto per nessuno. Bene, ci sono altri gruppi che la pensano allo stesso modo. Onorevole Cozzolino, prego. Presidente, li accogliamo a parte qualcuno che interverrà mentre leggerà gli ordini del giorno. Molto bene, molto bene. Ci sono altri o vedremo... Onorevole Zaratti, prego. Per lei vanno bene tutte le... Bene, allora io sto sempre continuando a consentire al sottosegretario che ringrazio perché stiamo improvvisando insieme. Parere favorevole a entrambi. Molto bene. A questo punto possiamo procedere... Onorevole Pastorelli, mi dica. La accetta la riformulazione. La accetta? Bene. Allora, andiamo con gli ordini del giorno. Vico, accolto. Mongello, accolto. Variante, accolto. Vargi, accolto. Va bene? Ok. Benedetti, c'è una proposta di riformulazione. Va bene? Ok. Businarolo, riformulazione. Parla da Costinelli. Onorevole Costinelli, prego. Grazie, Presidente. Accogliamo la riformulazione, però vorrei depositare il mio intervento esplicativo in ordine... appunto all'ordine del giorno. Lo deposito. Vediamo che lei deposita le motivazioni per cui accetta la riformulazione. Esatto. Bene. Grazie. Vignaroli, favorevole. Terzoni, favorevole. Gallinella, favorevole. Gagnarli, favorevole. Bernini, prego. Sì, grazie, Presidente. Io veramente non comprendo questa riformulazione a valutare l'opportunità di... Allora, nell'articolo 7, quando si parla appunto di vietare l'immissione di cinghiali, leggo testualmente, quindi, le regioni e le province provvedono all'individuazione nel territorio di propria competenza delle ali nelle quali, in relazione alla presenza o alla contiguità con aree naturali protette e con zone...